L'ordine dei medici della provincia di Crotone interviene sulla ultima vicenda che ha interessato un medico del pronto soccorso aggredito e malmenato da una persona a cui lo stesso medico aveva prestato servizio. Nell'esprimere totale solidarietà e vicinanza ai colleghi che sono stati oggetto di aggressioni, l'ordine dei medici evidenzia che nonostante reiterati casi di intimidazione oltraggio ed altro, il sistema non garantisce condizioni di sicurezza a chi presta la sua attività professionale in campo sanitario. In sostanza l'ordine dei medici di Crotone chiede a chi di competenza di mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità degli operatori sanitari in modo che gli stessi possano svolgere il proprio lavoro in piena serenità d'animo e di giudizio. Fin qui il comunicato. Sul tappeto comunque rimane il problema della garanzia istituzionale tesa a salvaguardare il lavoro dei medici in una realtà che ha quotidianamente il bisogno di fatti concreti e non delle grandi divagazioni che, diciamo con tutta verità, non servono proprio a nulla.